PNRR, procedure più semplici, il Consiglio ha varato una nuova legge per procedere in maniera più spedita sui progetti relativi ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Rigenerazione varato il bando dal Consiglio, 1.750.000 euro per i giovani. Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la legge che introduce una disciplina speciale e a termine necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR e del Fondo Complementare. La legge è passata con 24 voti a favore e due contrari, 9 i consiglieri, tutti di opposizione, che non hanno espresso voto, approvati anche alcuni emendamenti. La legge nasce con il proposito di cogliere a pieno l'occasione offerta dall'arrivo delle risorse comunitarie per risanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica. Risorse ingenti e tempi stretti per la presentazione nell'attuazione dei progetti, di cui la necessità di procedere a uno snellimento delle procedure amministrative legate al governo del territorio. Nel corso del lungo dibattito i gruppi di minoranza hanno però parlato di una legge che di fatto crea discriminazione nei confronti dei comuni e dei privati, che comprime la partecipazione e usa la semplificazione quale alibi da parte della regione per abdicare alla funzione di programmazione e controllo. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci che entro la fine del prossimo anno devono progettare e impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. La nostra posizione è di buon senso, mediata anche con i nostri rappresentanti sul territorio. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso, tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee e quei progetti vanno, come si dice, calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie, basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 centimetri in regime di vincolo paesaggistico, poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi su questo non siamo d'accordo, così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS, la valutazione ambientale strategica soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR che come sappiamo è il Green Deal, cioè la rinascita verde dell'Europa eliminando la valutazione ambientale strategica. La posizione su una semplificazione per i progetti che dovranno essere fatti sui nostri territori con i finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza chiaramente non ci può trovare contrari. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori e in particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria efficace e importante e decisiva di queste opere. Quindi sicuramente vogliamo che quei 4 miliardi che arriveranno per i progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza arrivino sui nostri territori, vogliamo che questi soldi siano spesi fino all'ultimo centesimo, vogliamo che ci sia questo tipo di intervento e che la Toscana sia parte attiva e importante su questi processi ma non vorremmo che queste decisioni passassero sulla testa delle nostre autonomie locali comunali perché sappiamo bene che poi quando si parla di localizzazione di alcune opere ci deve essere il consenso della cittadinanza che lì ci vive. Quando Giuseppe Conte è tornato da Bruxelles con i 209 miliardi del PNRR è stato immediatamente chiaro e ha detto che era necessario spenderli presto e bene. La regione toscana partiva avvantaggiata per quanto riguarda lo spenderli bene grazie alla legge Marson, la legge 65 del 2014 che garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali, era una legge faro per tutte le regioni d'Italia ma in questi otto anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi e quindi a cosa si ricorre? ha un escamotage, si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Ebbene io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare perché superare la valutazione ambientale e comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quelle che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere, cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura a chiedere di derogare a dieci articoli un'intera legge significa scavalcarla e di fatto annullarla. Questo è quello che è riuscito a fare in questo momento la maggioranza e ne siamo fortemente delusi perché riteniamo che si potesse invece intervenire in maniera migliorativa e che si è perso un'occasione per fare della regione toscana una regione di cui si possa essere orgogliosi per la capacità di valorizzare le risorse che lo ricordiamo ancora il Movimento 5 Stelle grazie a Giuseppe Conte ha messo a disposizione. Cambiamo argomento, dopo oltre due anni di pandemia il Consiglio regionale della Toscana interviene con le sue risorse pari a 1.750.000 euro derivanti dall'avanzo di bilancio per sostenere i giovani, la fascia d'età che più di altre ha sofferto per la mancanza di socialità. Nasce così il bando Rigenerazione Toscana presentato a Palazzo del Pegaso dal Presidente del Consiglio Mazzeo e dai consiglieri Petrucci, Casucci e Scaramelli. L'ufficio di Presidenza con una decisione unanime ha deciso di investire in questo senso le risorse frutto dell'avanzo di bilancio dell'Assemblea Legislativa. Il bando scade il 16 maggio, a gestire le risorse saranno i comuni che dovranno garantire una compartecipazione almeno del 20%. Quattro le sezioni del bando, rigenerazione urbana, culturale, sociale e inclusiva. Sentiamo le interviste. Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile, quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità. Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale. Abbiamo chiamato questo bando voluto con forza a tutti i membri dell'ufficio di Presidenza. Ringrazio i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e i due segretari Fratoni e Petrucci perché abbiamo deciso di individuare rigenerazione toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani. Quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile oppure rigenerazione inclusiva con i parchi gioco inclusivi rivolte alle ragazze e ragazzi più giovani o quella che io chiamo rigenerazione musicale per far ripartire eventi nelle nostre città. 1.750.000 euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana fino ad un massimo di 15.000 euro a progetto e con un cofinanziamento del 20% minimo da parte dei comuni. Noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare, possiamo finanziare più iniziative e più progetti perché il nostro obiettivo è quello di restituire almeno in parte, una parte piccolissima, quello che i ragazzi e le ragazze non hanno potuto avere durante questa pandemia. Un po' abbiamo ristorato la maggior parte dei soggetti commerciali che ne avevano, ne richiedevano il sostegno da parte della regione ma i giovani non abbiamo potuto dare nulla. Questo è un modo per cercare di restituire in parte, anche se sappiamo una parte piccolissima, quello che questa pandemia gli ha tolto, cioè la socialità. Progetti importanti di rigenerazione urbana ma soprattutto rivolti alle nuove generazioni, quelle generazioni che più di altri a mio avviso hanno sofferto della pandemia, l'idea nasce lì, l'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani e soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione, questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore, quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche a livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni, ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. Il livello di relazione si è interrotto, è complesso oggi riuscire a ricostruirlo, quindi noi dovevamo avere uno strumento che desse ai ragazzi in particolar modo delle opportunità che purtroppo la pandemia in alcuni casi e in molti casi ha interrotto, andando anche a vedere i danni che si sono creati soprattutto agli adolescenti, alle nuove generazioni rispetto all'impossibilità di creare una relazione con l'altro, quindi mi auguro che ci sia una risposta importante dei comuni toscani, i comuni possono compartecipare ma credo che la differenza la debbano fare l'autogestione, l'autorganizzazione, le iniziative che nascano dalle associazioni dove i comuni per noi diventano più che altro un soggetto di garanzia istituzionale nel momento esclusivo della presentazione delle domande. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella ha presentato un'interrogazione sul demanzionamento degli OS, gli operatori sociosanitari, che all'ospedale di Massa, detto Stella, sarebbero stati declassati a facchini. Chiediamo al Presidente della Regione e alla sua giunta se siano a conoscenza della situazione, ha detto Stella, e come intendano risolverla. Questa la sua interrogazione. Cambiamo ancora argomento. L'arte di governare, non dimenticando la fratellanza tra i popoli, è il tema centrale del volume, un mondo aperto per una buona politica, sull'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Il libro a cura di Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Alla presentazione, oltre ai curatori del volume, sono intervenuti tra l'altro l'imam di Firenze, Izzedin e il Zir e il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Nelle interviste ascoltiamo le loro dichiarazioni e prima che cosa ci ha detto uno dei curatori del libro, Lucio Romano. Ma una politica basata sul dialogo, sulla questione sociale e soprattutto attraverso quel principio di fraternità, che non deve essere interpretato come un principio ascrivibile ad un credo religioso solamente, ma è il fondamento della comunione a livello sociale. La comunità a livello sociale ha bisogno appunto di dialogo, di costruzione e poi devo dire, nemmeno prevedendo evidentemente quello che poi sarebbe accaduto con la guerra in Ucraina, il titolo dato che prende in buona parte, quando riportata la lettera in ciclica Fratelli Tutti, un mondo aperto, sta appunto a significare la possibilità, si lascia passare questa espressione, di una globalizzazione in positivo di valori, di principi e di una condivisione, perché siamo tutti collegati e nessuno si può ritenere di salvarsi senza che si salvi anche l'altro, anzi salvare l'altro significa salvare se stesso. Ma l'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale e appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi, sia da un punto di vista culturale, il Papa sottolinea spesso questa idea di un'epoca che cambia, cioè non un cambiamento dentro un'epoca ma un cambiamento di epoca e quindi bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi, sia poi in questi giorni di fronte a questa tragedia della guerra verso la quale non possiamo che reclamare le ragioni appunto della fraternità umana e della pace. La parola di Papa, parole che toccano credo la sensibilità di tutti gli esseri umani, sono certamente rivolti ai cristiani in prima linea ma rivolti a tutta l'umanità. è quello di tornare a parlare un linguaggio umanitario da chi rappresenta fede religiose, perché purtroppo per un po' di tempo abbiamo parlato altri linguaggi, quelli di scontri, quelli di non riconoscere l'altro, e allora cancella la sua umanità, ma in questo documento molto importante che rappresenta, spero, un nuovo umanesimo, una nuova fratellanza per tutta l'umanità. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.